Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Siamo di fronte ad una situazione di assoluta emergenza e come tale per affrontarlo servono appunto norme emergenziali. Come se non bastasse, stiamo vivendo la più grande crisi energetica di sempre, dovuta da un lato al caro energia iniziato più di un anno fa e ora amplificato la guerra tra Russia e Ucraina. Con in più la possibilità che da un giorno all'altro vengano chiusi i rubinetti del gas. Se si dovesse arrivare al razionamento, peggio ancora, alla sospensione del gas, dovremmo inoltre dire addio a migliaia di imprese, di certo a quelle energivore. Tutto il settore della metallurgia, per fare un esempio concreto, non può lavorare a singhiozzo perché i forni non si possono spegnere all'improvviso, altrimenti si ghiacciano e vanno sostituiti. La manifattura italiana è già in ginocchio in parecchi settori, siderurgia, carta, vetro, ceramica, fino ad arrivare all'agricoltura e non può permettersi ulteriori chiusure. Vedete, gli aumenti dei costi energetici seguiti all'esplosione del conflitto russo-ucraino hanno portato le famiglie a limitare la propria capacità di spesa e le imprese a subire un doppio effetto, il calo delle vendite e l'aumento dei costi di gestione. L'Italia in questo modo si trova quest'anno a subire un incremento dei prezzi dell'energia del 93%, tale da portare al 270% l'aumento cumulato sul dato del 2019. Al contempo, le valutazioni dell'Ocse e della Banca Centrale Europea hanno ribassato le previsioni di crescita per il 2022 di un punto e mezzo, andamenti che confermano le stime già diffuse da Confesercenti, che fissano al 2,6% la crescita attesa per il PIL nel 2022, con una perdita di potere di acquisto delle famiglie pari all'1,5%. Sono questi dati preoccupanti. 9 italiani su 10, anticipando la stangata sulla bolletta, hanno iniziato a tagliare le spese comprimibili. Oltre due terzi, il 67%, riduce le consumazioni a ristoranti, il 53% la spesa in abbigliamento, il 47% le vacanze con tre o più pernottamenti e una quota uguale di consumi culturali e di intrattenimento. Ma c'è anche un 23% che taglia la spesa alimentare e un 10% quella legata addirittura alla salute. Negozi pubblici, esercizi, ovviamente hanno risentito sia dell'aumento dei costi fissi dovuto all'esplosione delle bollette che del mutato atteggiamento dei consumatori. Il 73% delle attività intervistate giudica insoddisfacente o molto insoddisfacente l'andamento delle vendite a marzo. Nel turismo, in particolare, il mix tra caro energia e tensioni internazionali ha portato ad una frenata in attesa delle presenze nel primo trimestre. Tra gernaio e marzo stimiamo appena 12,1 milioni di arrivi turistici per un totale di 41 milioni di pernottamenti. Ancora circa 16 milioni in meno, quasi il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'ultimo senza restrizioni. Altro che ripartenza, colleghi. Abbiamo creato una dipendenza energetica verso stati ostili e già questo è un capolavoro. Ad un buon livello di imprenditoriale non ci si legherebbe per oltre il 40% ad un unico fornitore. Ostalgi del no a tutti i costi. Alla nazione è mancata una programmazione verso il mix energetico. Un mix energetico che, pensate un po', già Mattei aveva teorizzato. Cito su questo il Copasir, colleghi. Sorgenti alternative sono quindi costituite in primo luogo da Algeria, Libia e Azerbaijan, tramite la rete di gasdotti esistenti, ma anche da Egitto, Qatar, Congo, Mozambico, Angola e Nigeria, per quanto riguarda soprattutto il gas liquido, peraltro di produzione ENI. Tutti i Paesi che hanno certamente elementi di problematicità per questioni interne o internazionali, contingente o storiche, ma che nel loro complesso possono assicurare una reale diversificazione delle rotte di approvvigionamento, evitando così nuovi fenomeni di dipendenze. Peraltro, a differenza della Russia, questi Paesi non utilizzano l'energia come strumento di potenza e peraltro non dispongono dei mezzi per farlo. Puntare dunque sul continente africano quale via di uscita per superare le dipendenze energetiche dalla Russia può costituire un passo obbligato e al contempo una sfida e un'opportunità per l'Italia e di conseguenza per l'Europa, purché, deve essere evidente da subito, ci sia un'adeguata strategia italiana ed europea nei confronti dell'Africa, secondo un modello di partnership che assicuri stabilità, pace e sviluppo ai Paesi fornitori lungo le rotte dei trasporti. Pensate, su questo Mattei c'è un indimenticato intervento che fece a Tunisi, ai Paesi africani, proprio su questo, dove disse loro io non vi sto portando qualche pompa di benzina e qualche motel, io vi sto portando una industria petrolchimica che potrà seguire al vostro sviluppo e che potrà essere per la Tunisia e per i Paesi africani una via di emancipazione. E questo l'aveva capito Mattei già negli anni Sessanta. Ove ciò non fosse possibile, si passerebbe dalla dipendenza attuale dalla Russia, quale maggiore fornitore, alla precarietà di approvvigionamento dall'Africa, tanto più che oggi in Africa sono presenti proprio Russia, Cina e Turchia. Guarda caso, perché l'Italia ha abdicato al suo ruolo geopolitico naturale, il cosiddetto giardino geopolitico dell'Italia rispetto al Mediterraneo. L'Africa quindi può costituire un'alternativa tanto per l'Europa, che tornerebbe a riconoscere nel Mediterraneo un quadrante strategico per il proprio benessere, quello che la Nato chiama lato sud, mentre sul lato est adesso c'è la sentinella baltica, e cioè l'operazione Nato più attiva ed emergenziale, manca un lato sud, quello che riguarderebbe proprio e darebbe una vocazione geopolitica all'Italia, al Portogallo, alla Spagna e a tutti i paesi appunto di confine sud. Ma questa sappiamo essere anche una vocazione per l'Italia, per tradizione, storia e appunto collocazione geografica e rappresenta un ponte naturale tra nord e sud. Inoltre la circostanza che si possa usufruire di gas e riconducibile all'Eni è un vantaggio innegabile che permette al nostro paese di tenere una posizione di forza e di sviluppo. Ma colleghi, l'impatto del caro energia ha impattato l'andamento delle gare. Penso alla banda ultralarga e l'innalzamento dei costi fissi. Penso alla diserzione dei bandi sull'innovazione. Ormai il ministro Colau è il ministro alla diserzione digitale, perché continuano a fallire i bandi scritti male e fatti male. Anche questo è un freno ovviamente allo sviluppo e all'innovazione. Ma cito Assistal, letterale. Le notizie di gare deserte sono all'ordine del giorno e con nostro rammarico si sta verificando quello che abbiamo sostenuto fin da giugno 2021. Avevamo avvertito della gravità del fenomeno, tuttavia da parte del Ministero e del Governo si sono messe in atto misure ordinarie e inadeguate, non è Fratelli Italia a dirlo, che hanno avuto come unico effetto quello di aumentare le proporzioni della crisi. La dimostrazione di quanto denunciavamo senza essere ascoltate sono i numerosi appelli provenienti da tutti gli operatori del settore, laddove l'aumento delle risorse stanziate con il DL aiuti è comunque insufficiente in considerazione dell'entità del problema. Nel complesso i fondi non sono, e non solo non riescono ad ammortizzare due anni di aumenti ininterrotti, ma non sono sufficienti neppure per riallineare i prezzi dei nuovi capitolati di gara. L'aver trascurato i rincari del 2020 e del 2021 ha inoltre provocato un indebolimento della forza finanziaria delle imprese e ne determina l'impossibilità di rientrare sul mercato e rispondere ai bandi di gara, a eccezione della buona riuscita di qualche accordo quadro. Per il resto il settore è paralizzato e pertanto oltre a guardare alle misure compensative che restano però misure accessibili a posteriori rispetto ai lavori, andrebbe introdotto un provvedimento straordinario per consentire alle imprese di partecipare a gare congrue sotto il profilo del prezzo a base d'asta e inoltre ritrovare vigore finanziario per poter proseguire le attività in questo difficile mercato. Senza questo intervento ogni sforzo colleghi sarà inutile e continueremo ad assistere a gare deserte perdendo la disponibilità dei fondi del PNRR che se inutilizzati torneranno all'Europa e questo è l'Assistal a denunciarlo, non Fratelli d'Italia. Ma veniamo al provvedimento. L'intervento sulle accise sembra dare un parziale ristoro alle imprese e ai cittadini manca però un sostegno ai comuni che sono in grande difficoltà sul versante dei costi energetici. È sufficiente richiamare i maggiori costi per l'illuminazione pubblica fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per gli immobili scuole comprese. Tutta la parte relativa agli ammortizzatori sociali appare poi decisamente insufficiente. Gli articoli 11 e 12 del provvedimento prevedono infatti tre cose 26 settimane aggiuntive per le imprese che rientrano nella disciplina degli ammortizzatori sociali 8 settimane aggiuntive per le piccole imprese dei settori connessi al turismo e l'esonero dalla contribuzione addizionale prevista dalla legge. Il problema, soprattutto per le prime due misure è però che per poter accedere a queste settimane ulteriori i datori di lavoro devono aver consumato tutti gli altri strumenti ordinamentari a disposizione. La terza criticità, colleghi, riguarda l'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina soprattutto donne e bambini. Anche in questo caso i comuni lamentano di essere stati lasciati ad affrontare da soli questo esodo visto il ritardo con il quale si sta affrontando la vicenda. Poi la revisione dello strumento della Golden Power c'è un paradosso le norme qui presenti invitano le aziende a dotarsi di alcune tecnologie e il successivo ampliamento del Golden Power che invece sembra imporre la disinstallazione ex post di quegli stessi strumenti. Cosa devono fare quindi gli operatori TLC? È inevitabile che si crei un clima di confusione e incertezza e su questo abbiamo chiesto chiarezza attraverso una circolare interpretativa cosa che ha fatto anche il Copasi. Vero è citata la Federazione Russa ma perché non prendiamo atto anche della effettiva attuale pericolosità della permeabilità della presenza cinese nei nostri sistemi di telecomunicazione e di cybersicurezza? Chiediamo, e questo da sempre, maggior impegno finanziario e di personale poi per l'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale e su questo non ci si può non riconoscere una mobilitazione da parte dell'opposizione a favore e a sostegno di tutto ciò che riguardi l'interesse nazionale proprio su questi temi sulla cybersicurezza, sull'Agenzia Nazionale sul recupero dell'innovazione e dei ritardi rispetto a questo comparto che è di assoluta emergenza e di difesa anche geopolitica. Come forza politica abbiamo quindi cercato di dare una chiara linea anche sull'energia per dirla con Nikola Tesla se vuoi scoprire i segreti dell'universo pensa in termini di energia e anche qui la nostra nazione il nostro territorio ci permetterebbe e ha una tale ricchezza di risorse da permetterci un mix energetico che invece noi non abbiamo mai perseguito noi intendo come sistema paese mai perseguito in maniera strategica. cito il nostro programma presentato nel corso della conferenza di Milano il settore dell'energia è caratterizzato da cicli e di decisioni e investimenti decennali dobbiamo pensare oggi a quello che sarà il futuro del nostro paese e dei nostri figli tra 25 e 50 anni nel corso degli ultimi 35 anni invece l'Italia ha scelto di affidarsi sempre di più a una fonte fossile come il gas per gli utilizzi primari dalla produzione di energia elettrica riscaldamento agli usi industriali gas di cui l'Italia è un importatore netto e dipendente in larga misura da pochi paesi produttori fino a 15 anni fa colleghi eravamo collegati da appena 4 tubi fisici Russia, Libia, Algeria e Mare del Nord e un rigassificatore panigaglia mentre solo recentemente il portafoglio infrastrutturale si è arricchito di un nuovo tubo il TAP dall'Azerbaijan e due terminali Livorno e Rovigo e sia per il TAP che per Rovigo ci sono voluti oltre 10 anni per vederne la realizzazione ma il vero combustibile di cui dispone l'Italia sono le fonti rinnovabili vento e sole di cui siamo ricchi come pochi e come si sa sono inesauribili l'Italia deve raggiungere l'obiettivo di produrre energia sempre più autonomamente e l'unico modo per farlo nel breve e medio termine 5-7 anni è quello di accelerare l'installazione di una nuova capacità di energia rinnovabile principalmente fotovoltaico ed eolico i progetti e gli investitori ci sono Terna il gestore della rete elettrica nazionale a fine 2021 aveva già richieste di connessione alla rete di impianti a fonti rinnovabili pari a 168 gigawatt con un incremento del 70% rispetto al 2020 e siamo il primo paese al mondo per potenzialità dell'eolico offshore ne vanno resi quindi più snelli processi autorizzativi e anche qui voglio citare una testimonianza storica che riguarda sempre Mattei Mattei pensate per la piena Italia democristiana violò 8.000 autorizzazioni per fare con il famoso blitz di Cremona per scavare tubi sul territorio e fare così le infrastrutture molte di quelle infrastrutture che abbiamo oggi grazie appunto a quella scelta di determinazione e decisionismo lo dobbiamo a Mattei perché se aspettiamo i tempi della burocrazia e l'eccessivo vincolismo in un momento di emergenza geopolitica come questa non ne usciamo e su questo presenterò un ordine del giorno che prego il governo di valutare con apertura mentale per questo un governo che guardi a lungo periodo dovrebbe analizzare lo scenario energetico a livello nazionale anche attraverso il potere sostitutivo dello Stato accelerare le autorizzazioni dei progetti in base anche alla loro collocazione e alle esigenze del sistema energetico lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve essere accompagnato da due elementi fondamentali gli accumuli e gli investimenti sulla rete elettrica i sistemi di accumulo elettrochimici o idropompaggi azzerano il difetto delle fonti rinnovabili ovviamente di essere intermittenti e non programmabili è necessario quindi definire oggi tempi e modi di realizzazione ricordando che l'ultimo idropompaggio in Italia è stato realizzato decenni fa la rete elettrica nel suo complesso è fondamentale per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per portare l'energia dal sud dove c'è la maggiore produzione rinnovabile al nord dove ci sono i maggiori consumi con più reti ed energia rinnovabile si potranno tagliare i costi elettrici con la transizione energetica l'Italia sarà infatti in grado di sparmiare circa 4 miliardi l'anno proseguendo su questa strada fra 15-20 anni il costo dell'energia per gli italiani sarà equivalente a pagare la tassa sui rifiuti ovvero non spenderemo più soldi per la materia prima ma solo per la struttura di gestione e di trasporto dell'energia attraverso le reti il gas che oggi è la nostra fonte energetica primaria dovrà avere il ruolo di accompagnatore della transizione per i prossimi 2-3 illustri non è plausibile quindi pensare di farne a meno prima è quindi fondamentale è fondamentale diversificare sempre più le fonti di approvvigionamento sia via tubo sia via terminali di ricassificazione stipulando contratti di approvvigionamento con sempre più paesi in maniera multilaterale senza dover dipendere più da una sola potenza geopolitica la diversificazione del rischio è un concetto di cui i recenti eventi ci hanno mostrato appunto non possiamo farne a meno diventa dunque cruciale colleghi stimolare la realizzazione del nuovo gasdotto nel corridoio sud-est dall'area Egitto-Israele-Cipro e dei nuovi terminali di ricassificazione di Porto Empedocle e Gioia-Tauro ovviamente così come per la rete elettrica anche per la rete del gas nazionale dovrà seguire lo sviluppo delle nuove infrastrutture parallelamente l'Italia dovrà riprendere l'attività di estrazione di hidrocarburi nazionali attività tanto cara a uno dei pionieri appunto già citato del nostro paese Enrico Mattei abbiamo ancora riserve che possono essere messe in produzione e ha poco senso lasciarle pensiamo all'Alto Adriatico alla Croazia nell'attuale scenario colleghi è necessario sottolineare anche l'importanza strategica che il nostro paese sta acquisendo grazie alle interconnessioni internazionali l'Italia vedete è un hub naturale del Mediterraneo e questa sua posizione geografica garantirà sempre più in futuro la centralità del nostro paese per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di tutta l'Europa attualmente l'Italia ha già attive 26 linee di interconnessione elettrica con l'estero e nuove sono programmate con Francia Austria Grecia Svizzera e Tunisia in particolare l'interconnessione con la Tunisia consentirà un flusso energetico di rinnovabili dal Nord Africa dove i costi di gestione di realizzazione potrebbero essere inferiori una volta che i progetti di installazione del fotovoltaico di altre tecnologie rinnovabili in quell'area geografica che andranno in porto Eni Enel Terna potrebbero tutte e tre avere un ruolo cruciale su questo il rinforzo della rete e delle interconnessioni con l'estero colleghi giocheranno un ruolo fondamentale per aumentare la resilienza della rete nel suo complesso l'indipendenza energetica andrà di pari passo con una strategia di sistema che dovrà toccare necessariamente tutte le fasi della filiera energetica che è caratterizzata dall'incremento della penetrazione delle fonti rinnovabili e dall'elettrificazione dei consumi finali usando le tecnologie ad oggi mature pensiamo all'auto elettrica e al conseguente affrancamento dal petrolio e a necessari investimenti sulle reti di distribuzione su questo ovviamente ci vuole un gradualismo produttivo non possiamo pensare di passare in maniera automatica da un sistema all'altro ma su questo però va fatta un investimento anche qui proporzionale per aiutare i produttori a convertire completamente il ciclo l'Italia infatti è stata ed è e deve continuare ad essere fra i pionieri della filiera dell'idrogeno che nella sua versione verde prodotta grazie alle fonti rinnovabili stesse potrebbe essere utilizzato per alcuni usi industriali in particolare nei cosiddetti settori hard to abate come ad esempio quello dei trasporti pesanti aerei marittimi o quello siderurgico o come sistema di accumulo il nostro paese ha una lunga tradizione di ricerca e innovazione sull'atomo poi non dobbiamo assolutamente abbandonarla per questo è importante studiare ogni possibilità e analizzare sia i relativi impatti sia i tempi di implementazione delle nuove tecnologie colleghi come potete vedere Fratelli Italia ha una chiara visione sull'energia e sulla geopolitica dell'energia siamo sicuramente a fianco di tutte le filiere quella della cultura del turismo delle imprese del mondo produttivo dello sport delle aziende in generale del mondo delle telecomunicazioni e della siderurgia dell'energia siamo al fianco di una nazione che sta per entrare in un punto di crisi e di sofferenza che rischiamo di portarci appresso per i prossimi decenni se ora non si agisce con urgenza e agire con urgenza purtroppo non vuol dire fare il DL tagliaprezzi vuol dire avere una visione e in finale voglio proprio ricordare al governo che è qui ben rappresentato che non si può più procedere a vista occorre come dicevamo una visione generale una visione strategica e sicuramente ancora una volta in conclusione la lezione ci viene da quel genio di Enrico Mattei di cui sono ancora attualissime le intuizioni noi vogliamo onorarlo qui in aula la sua memoria e prendere esempio da quello da questa che era la sua capacità di vedere oltre i decenni era la visione di un patriota che credeva nella possibilità dell'Italia di essere pensate un po' indipendenti dagli USA all'indomani del piano Marshall oggi dirlo può essere semplice ma farlo quando c'era appena stato il piano Marshall voleva dire avere coraggio ed Enrico Mattei il coraggio l'ha sicuramente avuto la direttrice indicata da Mattei è ancora attuale il mix energetico pensate colleghi parlava già di mix energetico lo aveva già teorizzato nel secolo scorso e come disse in chiusura lo cito in relazione allo sviluppo del consumo dell'Italia dobbiamo preoccuparci anche di potenziare al massimo tutte le fonti di energia possibile anche quella nucleare erano gli anni 60 colleghi perché non lo abbiamo fatto perché non lo state facendo grazie grazie onorevole Mollicone grazie a tutti